Allarme degrado, siamo nel cuore di Vicenza, proprio in pieno centro storico in Piazza Matteotti e questa è Stradella Isola, una galleria, un corridoio tra alcune vetrine, tra alcuni negozi di qua si va verso Contra San Faustino che poi sfocia in Corso Palladio, la strada principale di Vicenza Alcuni telespettatori ci hanno chiamato per denunciare la presenza di alcune baby gang che infestano la città e che si ritrovano qui, insomma chi vive e lavora in questa zona da anni si trova in Trincea, è vero? Sono 11 anni, sono commerciante che lavoro qui e posso confermarlo, è un continuo flusso di questi ragazzi che si possono identificare tra i 15 e i 18 anni, che stanziano ripetutamente tutti i giorni con dei movimenti strani, ripeto, movimenti strani che le autorità dovrebbero approfondire e controllare. Lei ha vissuto anche qualche esperienza brutta? Sì, in questi anni ho subito degli atti vandalici, mi hanno tre volte distrutto la mia vetrina e quindi è logico che parlando anche con gli altri residenti l'intervento di una telecamera tranquillizzerebbe un po' anche il nostro lavoro. E noi di Rete Veneta intanto abbiamo portato la nostra telecamera perché come siamo abituati a fare diamo voce ai cittadini, diamo voce ai commercianti e rilanciamo anche il loro appello perché il sindaco metta una telecamera di sicurezza e la punti su quei gradini lì. Sì, siamo veramente esausti, non ne possiamo più, chiediamo ufficialmente al sindaco di intervenire nel più breve tempo possibile. Ecco, noi rilanciamo questo appello, ovviamente per noi come sapete non finisce qui ma continua.